128 e nuovi casi di covid registrati oggi in Abruzzo, 3154 i tamponi molecolari processati nelle ultime ore tramite cui il virus è stato individuato in persone tra l'1 e i 77 anni d'età. Di queste 99 sono residenti in provincia dell'Aquila, 18 in quella di Teramo, 10 nel Chietino e 2 nel Pescarese. L'impennata di casi nell'Aquilano è dovuta a 45 contagi risalenti al periodo tra il 15 e il 18 maggio che l'Asl 1 non aveva provveduto a registrare a causa di un disservizio informatico. Due morti, il bilancio delle vittime sale a 2467, 56 guariti, torna a salire il numero degli attualmente positivi, ne sono 71 in più rispetto a ieri per un totale di 5901. Di questi 179 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 17 sono quelli in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre gli altri 5705 positivi accertati, 72 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Da lunedì parte la campagna vaccinale di prossimità, volta all'immunizzazione dei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In questa prima fase saranno interessati alcuni centri delle province di Chieti e l'Aquila, dove arriveranno i team militari annunciati dal commissario figliuolo. La strategia è la stessa messa in campo nelle isole cosiddette minori, ovvero realizzare delle piccole zone covid-free dove la vita possa riprendere normalmente e dove i turisti possano villeggiare in serenità.